Fai un piano commerciale per raggiungere i tuoi obiettivi di mercato e se lo fai resta poi però nel cassetto. Se resta nel cassetto è perché probabilmente lo hai redatto su basi teoriche che poi rimangono tali. Il corso invece ha lo scopo di redigere un piano commerciale pratico in quattro step che ci permettono di valutare in maniera oggettiva e non soggettiva i paesi da aggredire, di valutare la concorrenza presente, di redigere un budget dei costi commerciali e delle vendite, di stilare un piano di vendita che stabilisca chi fa cose, le tempistiche tramite un gante e infine di trovare gli indicatori chiave per poterlo seguire. Il tutto con un taglio molto pratico dove si avrà possibile applicare alla propria realtà aziendale il piano commerciale già durante le esercitazioni nel corso.